C'è qua il coro! C'è la bandiera della verità. Ma sto finendo, quindi Ray? No, no, qua sei contro Ray. Ah, solo contro Ray? Sì. Ma non era reale. Fai alla modalità sogno. No. C'è il cerchio per far vedere la mostra speciale? Con la destra? Sì, selezionava quella con uno. No. C'è la mia testa. Ok. Da te. Sì, è dolce. Grazie a tutti.